Eh sì, nella mia Campania, perché riparte il Teatro Festival da oggi fino all'11 luglio, più di 160 eventi in scena a Capodimonte, una location unica per chi non la conosce e per chi deve assolutamente andare a seguire il Festival, è arrivata la sua 14esima edizione con la direzione artistica di Ruggero Cappuccio, che salutiamo perché è sempre con noi presente con il cuore e con tanti tanti appuntamenti, organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival e sono tantissimi anche i protagonisti in cartellone. Si comincia questa sera con la prima nazionale della morte, La Fanciulla, di Ariel Dorfman, la regia è di Elio De Capitani, soltanto qualche nome in cartellone, da Pennacca, Alessandro Preziosi, Alessio Buoni, Sonia Bergamasco, Iaia Forse, Lina Sassi, Euridice Axel, Marco Bagliani, vabbè potrei andare avanti delle ore.